Le casee, quelle completamente inagibili, restano il nodo centrale della ricostruzione dell'Aquila. Due nuove circolari emessi dalla struttura tecnica di missione forniscono ora chiarimenti sulla possibilità di riparazione di queste strutture. L'aspetto centrale contenuto nei documenti è questo. A pari costo i proprietari possono scegliere, secondo il principio della convenienza economica, tra sostituzione edilizia e riparazione. Una novità sostanziale, come chiarisce Francesco Laurini del Lancio Costruttori. Le novità sono sostanzialmente quelle che prevedono le normative circa il contenimento dei costi, sostanzialmente non più degli aspetti tecnici delle ricostruzioni. L'elemento quindi determinante è il valore della ricostruzione o del rafforzamento del ripristino dell'abitazione o del complesso immobiliare. Quando abbiamo nel calcolo complessivo del rafforzamento del ripristino un valore economico pari alla demolizione e ricostruzione entriamo nell'unico caso, direi quasi impossibile da manifestarsi normalmente, in cui si può fare una scelta tra la sostituzione edilizia e o la riparazione. Mentre invece in tutti gli altri casi, direi nel 100% dei casi, perché è molto difficile che possano combaciare i due valori, il costo complessivo che determina cosa fare, cioè se sostituire o se riparare, è determinato appunto dal valore della riparazione dell'immobile, che è l'unico progetto che deve essere di fatto eseguito. E cioè nel momento in cui noi abbiamo la progettazione del rafforzamento, del miglioramento e dell'adeguamento sismico di un edificio e della riparazione complessiva dello stesso, troveremo un valore complessivo. Questo valore potrà essere, dovrà essere commisurato ad un altro valore parametrico che è in genere sull'ordine di circa 1100-1200 euro metro quadro superficie netta per la sostituzione edilizia. In sostanza abbiamo da un lato il valore che viene fuori dal progetto del rafforzamento, ipotesi un milione di euro, da un altro lato abbiamo le superfici complessive che fanno riferimento a questo calcolo, le superfici delle abitazioni, del palazzo, del complesso immobiliare, che moltiplicate per i parametri di riduzione che sono previsti nelle ordinanze, 60%, superfici non residenziali, muri, perimetrali e quant'altro, per il valore complessivo dell'importo previsto in euro metro quadro, di quei valori complessivi che danno poi a sua volta un valore definitivo della sostituzione edilizia, questa sostituzione non può costare di più della riparazione. E quindi se la riparazione costa di meno si fa la riparazione, se la riparazione costa di più si procede naturalmente nella sostituzione edilizia. Questa è una sostanziale novità? È una sostanziale novità perché supera gli aspetti tecnici, nel senso che prima si è parlato di un certo numero di pilastri fuori asse, di un certo numero di danni all'interno delle abitazioni, quindi di danni di carattere strutturali, tecnici, sostanzialmente non economici. Oggi invece l'elemento determinante che gioca a favore di questo discorso è l'elemento economico. E quindi da un lato abbiamo il valore complessivo della riparazione, del miglioramento, insomma del ripristino del palazzo, del fabbricato. Da un altro lato abbiamo un valore parametrico della sostituzione. Il valore parametrico nasce solo dalle superfici, moltiplicato come dicevo prima appunto questo elemento di euro metro quadro che nasce da una serie di dettagli previsti dalle ordinanze. Questi valori devono essere naturalmente differenti e il valore che determina che cosa fare è il valore inferiore. Quindi dove costa di meno si va a fare l'operazione. Questi circolari chiariscono anche un altro punto che è quello della sostituzione delle parti, ad esempio della parte del riscaldamento, dei radiatori, nel momento in cui queste parti sono obsolete può essere sostituito completamente nei termini previsti dalla normativa vigente. Beh, insomma, l'evento sismico ha colpito una città che solo in minima parte era molto nuova, molto recente. Insomma, la maggior parte degli edifici colpiti sono o antichi o addirittura vecchi, tra virgolette, quindi realizzati negli anni 60, 70, 80. Anni in cui le normative che riguardavano gli aspetti energetici, acustici e quindi di abbattimento generale delle energie sostanzialmente non erano presi in esame o avevano dei parametri totalmente differenti rispetto a quelli odierni. È naturale che quando si tratta di riparazioni importanti come quelle a cui ci accingiamo ad eseguire, si entra nel campo di una ristrutturazione pesante e quindi si entra anche nel dovuto rispetto di normative più recenti, 2005, 2007, 2010 e quant'altro, che riguardano gli abbattimenti, per esempio l'ultima, di almeno il 20% dei costi energetici, quindi dei valori energetici. Questo significa aumento dell'isolamento termico degli immobili, aumento dell'efficienza energetica delle singole attività impiantistiche, abbattimento dei rumori, diciamo, dei decibel acustici, quindi delle trasmissioni di rumori tra i singoli piani, tra l'esterno e l'interno e quant'altro. Queste ulteriori novità consentono, per poter rispettare appunto questa normativa, l'adeguamento anche degli aspetti impiantistici all'interno degli edifici oggetto di ripristino. Ovviamente, se si va nella sostituzione, è logico che sono compresi, ma è importante anche specificare che sono compresi questi costi anche nelle ristrutturazioni pesanti, cioè in quelle ristrutturazioni che vanno oltre il cosiddetto grado B di danno sismico. I tempi della ricostruzione restano lunghi e le novità emersi dalla circolari portano i professionisti a definire calcoli e costi. Tempi, spiega Laurini, che sono obbligatoriamente lunghi, troppi progetti per circa mille professionisti. Le attività progettuali serie prevedono tempi molto lunghi, in particolare per gli edifici molto danneggiati, quindi quelli ascritti nelle categorie E. Tempi molto lunghi significa una serie di procedure, oppure una serie di persone che lavorano, professionisti che lavorano, per risolvere questo tipo di problematiche. Noi abbiamo stimato come CNA tempi di progettazione per singoli interventi, adesso senza entrare nel dettaglio di come, quando e che cosa, di circa sei mesi per un progetto serio, così tra virgolette, per andare dall'A alla Z del progetto, quindi per essere presentato agli enti che poi lo devono esaminare. La quantità dei progetti che devono essere prodotti è una quantità enorme, insomma, come tutti quanti sappiamo. E il numero dei professionisti che oggi, quelli che noi conosciamo in termini numerico, indicativo, naturalmente non puntuale, sono all'incirca mille. Riteniamo che la scadenza del 30 giugno sia assolutamente impossibile da rispettare, e riteniamo che dovrebbe essere attivata una serie di collaborazioni interne ed esterne agli studi che attualmente si occupano di progettazione, sia per salvaguardare l'aspetto etico, che è una parte fondamentale del progetto, e quindi eseguire le opere all'interno degli studi e comunque coordinate all'interno degli studi, ma anche per migliorare l'efficienza progettuale, quindi creare condizioni di sinergie che possano, nei limiti in cui è possibile ed è possibile, ridurre fortemente i tempi di progettazione. Questo per arrivare a date assolutamente, diciamo, non impossibile, ripeto, per il 30 giugno, ma a date che comunque non siano, appunto, delle calende greche. Altro aspetto è il discorso indiscutibile delle approvazioni, che fa parte sempre dell'aspetto progettuale, sostanzialmente se lo andiamo a vedere, nel senso che una volta che si è fatto il progetto, dovrebbe essere creata una condizione di conferenza di servizio, cioè l'esame deve essere uno, non possono essere cinque o sei, se si tratta dei depositi va bene, perché è un deposito, ma quando è un esame progettuale non è possibile che poi ognuno o niente dica la sua e quindi o niente chieda ulteriori chiarificazioni, spiegazioni, integrazioni, modifiche e quant'altro, perché ad ogni modifica partono altri mesi che ritarderanno ulteriormente la ricostruzione. Quindi la sollecitazione è coordinamento progettuale, adeguamento delle scadenze a tempi effettivamente reali, senza raccontare cose che sono impossibili da effettuarsi, e convergenza di aspetti esecutivi dal punto di vista delle approvazioni, dei singoli enti, attraverso un meccanismo che potrebbe essere, per esempio, quello della conferenza di servizi, per dirne una.